Personaggio numero 7 Beidou, capitana dell'equipaggio della Crux, una tipa diretta e indipendente. Beidou è la leader della Crux, una flotta armata combata al porto di Liyue. L'espressione flotta armata significa esattamente quello che sembra, una curva di marinai armati fino ai denti. Senza entrare troppo nei dettagli, tutto quello che fa la Crux è approvato dalle sette stelle, più o meno. Beidou è una leader fidata, tanto che il suo equipaggio la crede capace di domare le tempeste e i flutti del mare. E Beidou, anche la peggiore delle tempeste, deve chinare la testa di fronte alla sua forza. A Liyue, Beidou è una specie di icona culturale. Anche se la sua fama non raggiunge quella delle sette stelle di Liyue, ogni mercante della città conosce il suo nome e quello della sua flotta, la Crux. Naturalmente, non mancano le voci di corridoio su una persona del suo rango. La gente ama raccontare storie di proporzioni colossali, o meglio, oceaniche, delle sue imprese, storie in cui le sue abilità sono esagerate a livelli quasi sovraumani. Si dice che possa incanalare l'energia di Electro con la sua spada e che una volta l'abbia usata per tagliare a metà con un sol colpo un formidabile mostro marino emerso dalle profondità degli abissi. In genere, chi sente questi racconti li liquida come vaneggiamenti da ubriacone, ma per chi ha viaggiato con Beidou sono tutt'altro che delle sciocchezze. Secondo questi ultimi, se a questo mondo esistesse davvero un gigantesco mostro marino degli abissi, Beidou sarebbe certamente in grado di tagliarlo in due. Riassumendo, le capacità di Beidou sono tanto impressionanti quanto la sua reputazione nei circoli d'affari. Pertanto, se viene definita la regina dei mari senza corona, una ragione c'è di sicuro. I domini d'affari tendono a mettere il profitto prima della propria umanità. È così che va il mondo, lo sanno tutti. Si può provare a negarlo, ma senza troppa convinzione. Tuttavia, a Liyue, dove tutti sono coinvolti negli affari, le cose vanno diversamente. La gente del posto, infatti, rifiuta completamente quest'idea, sostenendo che il porto di Liyue sia un luogo speciale dove l'umanità è sacra. A tal proposito, i commercianti stranieri ribattono sempre lo stesso modo. L'unica cosa speciale a Liyue è che anche l'umanità viene considerata una merce. A questo, gli abitanti di Liyue rispondono, allora come si spiega la Crux? La Crux si è fatta un nome nel corso degli anni ed è estremamente costosa da soldare. Eppure, durante un viaggio in cui si era imbattuta in una forte tempesta, Beidou notò una piccola imbarcazione privata nelle vicinanze. Vedendo il modo in cui veniva sballottata dalle onde, ordinò al suo equipaggio di trenare l'imbarcazione al sicuro, nonostante la chiglia della sua stessa nave rischiasse di cedere. Beidou decise anche di condividere il poco cibo e l'acqua rimasti con l'equipaggio della nave soccorsa, mentre la tempesta continuava a infuriare. Alla fine, dopo diversi giorni, la Crux lasciò la barca in un punto di ormeggio sicuro. Grati a Beidou per aver salvato le loro vite, i membri dell'equipaggio diventano in seguito i suoi fideli parter commerciali. Dopo aver raccontato questa storia, gli abitanti di Liyue sorridono dicendo, quando qualcuno rischia la vita in questo modo, ci vuole ben altro a parte la mercificazione per spiegare le sue azioni. Vosieresti davvero guardare Beidou negli occhi e parlare di mercificazione dell'umanità? Si dice che a capo della Crux, dietro le quinte, non ci sia altro che Ningguang, la Tianquan delle Sette Stelle. Le persone coinvolte lo negano apertamente, anche se per ragioni diverse. Dal momento che fa parte delle Sette Stelle, Ningguang ha spesso bisogno di qualcuno che faccia il lavoro sporco per lei, e tra i molti candidati disponibili ha scelto Beidou. Ningguang sottolinea che ha scelto specificatamente lei, non la Crux. La collaborazione di Ningguang con la Flotta è quindi soltanto un caso. D'altro canto, quando Beidou sente le voci sui rapporti con Ningguang, insiste furiosamente nel dire che si tratta di una collaborazione paritaria. Beidou risponde solo a se stessa e non c'è nessuno, nemmeno Ningguang, a muovere i fili al posto suo. Beidou è chiaramente diversa degli altri collaboratori di Ningguang. Non si muove con cautela e non mostra la reverenza come la maggior parte di essi. Anzi, si potrebbe dire che Beidou a volte è in contrasto con Ningguang. I consiglieri di quest'ultima se ne preoccupano costantemente, dato che Beidou è imprevedibile e anticonformista. Ma Ningguang si limita a sorridere e ad allontanare le loro preoccupazioni. Al contrario, Beidou è la persona più affidabile di Liyue, risponde loro Ningguang. Basta dire la verità e cosa ci si può guadagnare, e lei si convincerà, anche se a suo tempo. Una volta, al ritorno da un lungo viaggio, la Crux organizzò il consueto banchetto celebrativo di tre giorni. Era in autunno come tutti gli altri, tranne che per la nuova chef in città, Shan Ling, che in futuro avrebbe preso in gestione il ristorante Wanmin. Cercando di contenere i costi, dopo aver incontrato Shan Ling per strada, l'equipaggio decise di attirarlo a bordo, in un modo o nell'altro. Nel vedere Beidou, Shan Ling era decisamente sconcertata e glielo fece notare senza mezzi termini. Se vuoi mangiare i frutti di mare in stile Liyue, allora non posso aiutarti. Sappi che, con la mia cucina, intendo trascendere i due stili culinari di Liyue. Beidou si limitò a sorridere e a indicare il forziere di monete d'oro accanto a lei. Fai solo quello che sai fare. Abbiamo guadagnato un bel po' nell'ultimo viaggio, che indici in anticipo di 50.000 mora. Non essendo tipa da tirarsi indietro di fronte alla possibilità di dimostrare il valore della propria cucina, Shan Ling accettò il lavoro. Alla fine della giornata, Beidou rimase conquistata dall'abilità della cuoca. Dichiarò di fronte al suo equipaggio che Shan Ling sarebbe presto diventata una chef rinomata in tutta Liyue, e insistette anche affinché la chiamassero Madame Shan Ling. La ragazza, che aveva appena iniziato a farsi un nome, ammirava Beidou per la sua generosità con il denaro e la sua franchezza. In seguito, Shan Ling avrebbe navigato spesso con Beidou alla ricerca di nuovi ed esotici ingredienti marini. Rimase sorpresa dalla vasta conoscenza che Beidou aveva dei frutti di mare e della loro preparazione culinaria, visto che di solito era lontana da qualsiasi cucina. Naturalmente, questo non significava che Shan Ling avrebbe ascoltato la sua opinione in merito alla loro commestibilità, ma questa è un'altra storia. Alcuni dicono che le cose assumono lo spirito di chi le comanda. Anche se non è una cosa, l'equipaggio della Crux assomiglia effettivamente a Beidou e ne mostra le stesse qualità. Tuttavia, ci sono ancora dei segreti tra l'equipaggio, che si diffondono all'insaputa di Beidou. Il suo primo ufficiale porta sempre fuori i nuovi marinai per una bevuta, dopo il loro primo ritorno al porto, e racconta loro una vecchia storia. Una volta, l'equipaggio aveva intrapreso un viaggio per sfidare mari sconosciuti, e si trovò a un soffio dalla fine in una terribile tempesta. In quel momento Beidou era sul ponte, al timone, intonando una canzone dei pescatori di Liyue sotto la pioggia scrosciante. Fino a quando le onde si precarono e l'alba spuntò all'orizzonte lontano, il primo ufficiale termina spesso la storia con questa battuta finale e uno sguardo nostalgico. Con lamento degli affari e la crescita dell'equipaggio, la storia si arricchita con dettagli sempre più incredibili, portando in nuove linee a venerare Beidou come una dea. 1. Affrontando una gigantesca idratricefala, Beidou scoglia il suo spadone che, ruotando nell'aria, tranciò di netto tutte e tre le teste del mostro, per poi tornare nella mano che l'aveva lanciato. 2. Beidou abbattuto Ningguang a scacchi due volte. La parte importante non è tanto che abbia vinto i soldi di Ningguang, quanto il fatto che abbia osato farlo. 3. Dal giorno in cui ha ucciso il mostro marino Aishan, Beidou non ha mai più cantato una canzone di pescatori. 4. Sì, Beidou conosce le ballate marinare, ma non osare chiederglielo. Voglio dire, sai com'è finita quel idra, vero? Liyue e Inazuma condividono un detto comune. Le sue pinne formarono l'oceano, la sua coda alle montagne. I pescatori impararono questa frase molto tempo fa, cantandola più e più volte e diffondendo la canzone in lungo e largo fino a farla diventare un brano molto amato dalla gente. Ogni volta che la nebbia si raccoglie sulla superficie del mare, sotto quel velo bianco si riesce a sentire il canto distante dei pescatori. Le sue pinne formarono l'oceano, la sua coda alle montagne. Era la ninna nanna che veniva cantata alla piccola Beidou. La storia di Rex Lapis che sconfiggeva i mostri marini era diventata leggendaria tra la gente di Liyue. Da bambina, Beidou amava le storie come questa e nei suoi sogni pensava che, un giorno, anche lei avrebbe visto quel grande pesce. Quel giorno arrivò, ma lei stava intonando la canzone con un'altra emozione nel cuore, e tutto il suo equipaggio cantava insieme a lei. Aishan era nelle acque con loro, metà drago e metà pesce, più grande di qualsiasi creatura presente nei peggiori incubi e potenti come una divinità, capaci di sollevare senza fatica onde alti decine di metri. Tutti quelli che solcano le vie commerciali in alto mare sono destinati a incontrare Aishan prima o poi. Beidou desiderava vederlo da quando aveva 9 anni, sognando di tagliargli la testa con un solo colpo. Aveva sfidato molte volte la creature altrettanto aveva fallito, ma quel giorno era diverso. Quel giorno caricò Aishan con il suo spadone più affilato e con al seguito i suoi marinai più esperti. La battaglia infuriò per quattro giorni. La flotta assaltava Aishan con cannoni, arpioni, frecce e corde, mentre Beidou combatteva la creatura così legata per ore fino a notte fonda. Di notte, però, Aishan era nel suo elemento e nessun marinaio sava abbassare la guardia o chiudere occhio. Beidou se ne stava sulla prua, ascoltando il vento. Un colpo, solo uno, era tutto ciò di cui aveva bisogno. E così aspettava, immobile, nel vento gelido. Alle prime luci dell'alba senza aver mangiato né bevuto per tutta la notte, Beidou avvertì un cambiamento nel suono delle onde. Con un colpo potentissimo, che risuonò come se avesse potuto tagliare la luna in due o spionare un'intera montagna, tagliò di netto la testa del Leviatano. Il cielo si riempì del rombo di un tuono e un alfogore viola si scaglia nell'oceano, proprio di fronte a Beidou, mentre lei si bagnava del sangue della sua nemesi. Così discese la visione diretta a chi aveva ucciso il mostro marino. Il suo bagliore, viola come quello del fulmine, era stupefacente e la sua forma immacolata e gioiellata era un tesoro più prezioso del sangue di Drago, una ricompensa da parte degli dei, adeguata all'eroina che aveva sconfitto Aishan.